va bene va bene noi stiamo andando a giocare proprio io devo solamente noi stiamo giocando a giochi stiamo giocando a giochi no a giochi no a giochi la famiglia a giochi a giochi noi ce la stiamo giocando la famiglia ai giochi lui è Sasa io sono Sasa e lui è Sasa noi siamo sei un po' capare di questo cotilla voglio che cosa magari facciamo ridere noi si siamo facciamo ridere lui più che altro io sono solo un po' però quanti secondi ci vogliono 5 secondi sai dirle quasi questi 5 secondi ciao ciao